di informare il pubblico sui problemi ma anche sulle risorse che dalle minoranze scaturiscono attraverso il particolare linguaggio della fotografia si occupa il nostro ospite di oggi Giovanni Melillo Costner fotografo ladino in carriera innamorato del Messico buongiorno e benvenuto buongiorno le sue note biografiche danno un'idea della multiculturalità della sua formazione vuole ripercorrerle brevemente con noi sì appunto sono frutto di un matrimonio misto mia mamma è ladina di corvara mio papà era del sud Italia e vivendo essendo nato in questa terra ho sempre avuto la possibilità appunto di confrontarmi con l'altro quel diverso questo poi mi ha appunto forse aperto in una certa maniera e fin dal momento in cui ho potuto intraprendere degli studi all'estero ho potuto godere anche di questa apertura in Germania dove ho studiato ho poi conosciuto mia moglie Marta Chimene Strossano lei laureatasi in information design ma dedita all'antropologia culturale mi ha proprio aperto anche questo mondo appunto dell'antropologia dal 2003 in poi diciamo. Da qui si capisce la sua sensibilità per il sociale per la multiculturalità appunto. La sua passione per la fotografia invece da dove deriva? La passione per la fotografia dire il vero per l'immagine per l'immagine ferma credo che ce l'ho fin da piccolo in quanto sono sempre rimasto molto estasiato di fronte alle immagini sia dipinti che appunto immagini più moderne e quindi poi verso i 15 16 anni quando ho cominciato proprio ad appassionarmi anche tecnicamente a questa arte ho capito che era il mio medium espressivo. Lei è stato spesso definito un interprete eccellente della mediazione culturale attraverso l'obiettivo. Che cosa significa precisamente questo concetto? Ma forse significa che non mi sono mai voluto soffermare troppo sul valore estetico della fotografia ma invece ne ho sempre più valorizzato la sua funzione sociale. Ecco io credo molto anche che l'arte debba essere uno strumento per un'azione socio-culturale. Lei ha partecipato di recente al Festival delle Resistenze con una mostra dedicata alla diversità per la quale ho potuto lavorare sul territorio. Qual è l'indice di integrazione fra le diverse culture in Alto Adige che ha potuto testare personalmente? L'esperienza nel quartiere del Trisarco è stata veramente straordinaria. Ho potuto leggere insomma che viviamo un momento storico importante soprattutto sotto il punto di vista appunto dell'integrazione in quanto molte volte la cittadinanza deve agire deve agire di proprio diciamo di propria iniziativa sono dei processi ancora poco o sono difficilmente mediabili magari da una governance e in questo è interessante appunto un lavoro di campo perché si può vedere come agiscono i singoli e cosa potrebbe succedere nel caso di e devo dire la verità che ho raccolto delle testimonianze molto positive delle storie di vita straordinarie e sento tanto legame tra le persone. Per chi volesse seguire il suo lavoro, i suoi progetti c'è un sito a disposizione? Sì, attualmente appunto insieme a Marta Jimenez Rossano portiamo avanti il progetto interculturale d'arte Open City Museum il nostro sito è www.opencitymuseum.com tutto all'inglese e aggiorniamo il blog potete vedere le rassegne passate e quelle future Grazie per essere stato con noi Grazie 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 a tutti Grazie a tutti